Io credo che la nostra forza e forse anche in un certo senso la nostra debolezza sia il fatto di non appartenere a nessun gruppo politico, cioè a non avere nessuna tessera di partito, a non appartenere ad alcuna associazione e noi sappiamo che le associazioni che si rifanno agli ambienti artistici sono quasi sempre di un certo colore politico perché si sa che l'arte in generale è prevalentemente gestita o in mano a dei partiti che stanno più a sinistra che al centro. Io voglio dire che noi siamo onesti, peccatori però cristiani, cattolici, quindi veniamo da una cultura che è quella che ci ha inculcato nostra madre, ci hanno abituato ai boy scout da ragazzi e quindi veniamo dalla vecchia democrazia cristiana e non ci vergogniamo di dirlo, eravamo fra i pochi che appena arrivati a Roma quando si parlava di politica ammettavamo di votare, non mai iscritti alla democrazia cristiana ed sembrava per uno che voleva fare l'artista, per uno che voleva fare il cinema, ammettere di votare la democrazia cristiana sembrava di bestemmiare, e oggi io non voglio dire che non voto per Pinco Pallino ma voto invece per il signor Mario Rossi o Giorgio Bianchi, però è chiaro che facendo parte di quelli che sono i gruppi, chiamiamoli così, molto molto uniti e molto molto coesi, dei cento autori o dell'ANAC o dell'API, associazione produttori italiani, che sono gestiti per lo più, i capi storici sono per lo più persone, giustamente perché nessuno li può criticare per quello sono liberi di essere proprio dichiaratamente di sinistra, noi che non lo siamo non ci sentiamo e quindi ne abbiamo tutti gli svantaggi e i pochissimi vantaggi, perché i partiti che sono al governo oggi o che non sono comunque partiti di sinistra non danno alcuna importanza alla produzione cinematografica, non l'aiutano, non la supportano, non la raccomandano né in RAI né al Ministero dei Beni Culturali, e quindi noi partiamo sempre con ogni progetto da capo, però visto che la nostra professionalità e i nostri film sembra che riescano ad essere decentemente di successo, questo ci autorizza comunque in tutti i modi, pur non avendo nessuna tessera di partite, non facendo parte di nessun gruppo organizzato, chiamiamolo così, di andare avanti con la gestione del nostro lavoro, con la continuità che si conosce. Il rapporto con la critica lo viviamo in maniera diversa, se io lo vivo soffrendo per eventuali stroncature, cosa che insomma devo dire che nel recente passato sta ringraziando il cielo avvenendo sempre meno di frequente, insomma da un punto di vista critico, siano giornali di sinistra, di destro o di centro, per fortuna non stanno a guardare l'ideologia politica, il credo politico dell'autore, per fortuna i critici da questo punto di vista con noi sono sempre stati impartiali, e devo dire che la critica è sempre stata abbastanza in maniera unanima, abbastanza positiva in questi ultimi anni. Ci sono stati degli anni in cui anche di film che adesso sono considerati dei cult, tipo abbiamo già citato la casa delle finale di Sigrid, in cui le critiche erano al 70-80% negative invece, certi critici non vedevano l'ora che uscisse un film di questo strano nome, che non conoscevano personalmente, Pupi Avati, per fare la loro proprio classica, rigorosa, canonica stroncatura, le leggiavamo quasi ridendo queste critiche, perché sapevamo che quando tramite l'eco della stampa ci sarebbe arrivato il tale giornale di Torino, o il tale giornale di Bergamo, o il tale giornale di Firenze, il critico avrebbe sicuramente in tutti i modi parlato male dei nostri film. Ma in quel caso eravamo giovani ed eravamo così abbastanza incoscienti, e la negatività della critica veniva accettata. Poi c'è stato il periodo di mezzo, il periodo in cui Pupi è cominciato dopo i successi televisivi di jazz band e cinema, e poi il successo cinematografico di una gita scolastica, che è diventato un autore più acclamato e più considerato, se non già un maestro, ma un autore sicuramente importante e da seguire, e quindi le critiche hanno avuto un peso maggiore, perché avere delle belle critiche poi voleva dire essere più facilmente accettati ai festival, avere più possibilità di essere riconosciuti nella gerarchia dei premi più importanti italiani, quindi Pupi le critiche ha cominciato a viverle abbastanza, con una certa preoccupazione, e soffrendone abbastanza se qualche amico, non amico, critico, ma firma importante di qualche giornale poteva bocciare uno dei nostri film, cosa che fino al periodo di Bix o dei film americani, o anche i cavalieri che fecero l'impresa, è in certi casi successo. Poi dal quale trovo in poi, ripeto, i critici sono diventati tutti molto, molto, devo dire quasi tutti abbastanza positivi verso di noi, e quindi questo dolore che hanno potuto dare a mio fratello l'hanno dato, se l'hanno dato l'hanno dato veramente in pochi, e quasi sempre su giornali che noi non leggiamo, che non arrivano abitualmente tutte le mattine sulla mia scrivania, quindi queste critiche negative, quindi io le leggevo magari a posteriori, le tenevo forse anche nascoste a mio fratello, perché sono io, poiché, che è il primo a ricevere da parte dell'ufficio stampa la raccolta dei ritagli stampa che riguarda i nostri film. Per quel che riguarda me stesso, io sono più concreto, sono più mestierante, 10.000 critiche è un box office negativo, preferisco il box office positivo, non me ne importa niente del fatto di avere la Mereghetti, o la De Stassis, o Ferzetti, che parlano male di un film, che poi invece fa l'incasso migliore di tutta la nostra storia cinematografica, noi abbiamo bisogno, il nostro lavoro si misura tutti i giorni con il denaro, con l'incasso, quindi non possiamo assolutamente trascendere. Quindi io sono uno che è diventato un produttore normale come tutti gli altri, come i distributori seri italiani, che tutti i giorni si studia al Cinetel, che gli arriva adesso con queste possibilità automatiche, addirittura durante la notte, quando il film è appena uscito nel sale, due ore dopo, a mezzanotte, tu bene o male sai già qual è l'incasso che ha realizzato il film in quel giorno in tutta Italia, quindi non vedo l'ora di guardare quelle cifre. Le critiche le leggo, le guardo, poi se capisco dal titolo, dalla faccina che sorrido, dalle tre palle invece delle due palle, o da tre asterischi invece che due, che la critica è positiva, sono il primo io a telefonare a Pupi, a dirgli guarda che Fertetti ti ha fatto una bellissima, Fertetti sul Messaggero, o Merighetti sul Corriere della Sera, o la Levantesi sulla stampa ti ha fatto una critica meravigliosa, una critica così così, ma quando è negativa cerco, se è possibile quasi non diglielo neanche, perché so che poi, prima o poi lo scopre, ma quando lo scopre, magari il film è già partito talmente, così bene al box office, che il dolore poi si diminuisce sicuramente.